il telefono sta suonando è sicuramente molly che chiama ciao babau sai che giorno è oggi? è mercoledì dice babau e poi c'è la partita molly è molto arrabbiata babau si è scordato che oggi è il suo compleanno dalla rabbia anche molly si dimentica di qualcosa ha messo la torta in forno da più di un'ora ecco la torta è tutta bruciata questo è il compleanno più brutto della mia vita pensa molly hanno suonato alla porta ma chi può essere? che bel compleanno molly ha ricevuto un bellissimo vaso decorato e ci ha messo dentro le rose beh per una volta si può guardare anche un pezzo di partita ciao 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 ciao